Buon venerdì primo luglio, il passo del Vangelo di oggi ci invita a liberarci dalla nostra presunzione di normalità e di santità. Ci porta all'essenza universalistica del messaggio di Gesù che si rivolge a tutti, in particolare ai peccatori, ai reietti, ai diversi e noi se pretendiamo di essere tra coloro che non sono peccatori, coppiamo uno dei peccati più significativi, quello di presunzione, presunzione di santità che genera inevitabilmente tante forme di moralismo escludente. Il Vangelo di oggi ci invita invece alla inclusione esistenziale e conviviale, ma veniamo al testo del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte. Qui è già un passaggio importante perché sicuramente allora come oggi le imposte non erano amate dal popolo. Qui è un pagano che in più siede al banco dell'imposto e gli disse seguimi ed egli si alzò e lo seguì. È semplicemente la rappresentazione perfetta della semplicità dell'invito di Gesù e dell'azione alla quale noi siamo chiamati. Seguire, non fare grandi dissertazioni, semplicemente seguire indipendentemente dalla nostra consapevolezza di essere peccatori perché Gesù ci accoglie sempre e comunque se però noi siamo disponibili ad alzarci e seguirlo. Mentre sedeva a tavola nella casa sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Un incontro conviviale nella quale ci sono pubblicani e peccatori. Vedendo ciò i farisei dicevano ai suoi discepoli, i farisei, i moralisti di ogni tempo, la nostra ipocrisia intrinsecamente presente nel nostro cuore e nella nostra mente. Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Domanda formulata duemila anni fa ma che oggi riverbera costantemente attraverso quel moralismo scandalizzato che esclude la diversità, che non sa porsi in termini di condivisione anche semplicemente nella convivialità. Udito questo disse non sono i santi che hanno bisogno del medico ma i malati. È una metafora quella che usa Gesù, non certo un'impronta medicalizzante, è una metafora nella quale ci dobbiamo riconoscere nella dimensione dei peccatori. Andate e imparate che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori e qui sorge anche una domanda. Quale pretesa noi possiamo far sorgere di essere coloro i quali possono dichiararsi giusti? Prima di tutto noi dobbiamo riconoscere il nostro peccato confidando nella infinita misericordia accogliente che Gesù in questo passo del Vangelo oggi ci testimonia. Infinita benevolenza e misericordia di Dio che passa attraverso Gesù e che testimonia la disponibilità dell'accoglienza. Questo brano del Vangelo oggi ci porta proprio al tema dell'accoglienza della diversità, del riconoscimento coraggioso del nostro essere peccatori aperti a seguire Gesù in un'opera di conversione costante. Gesù ci accoglierà, non ci giudicherà se noi siamo disposti ad alzarci dal luogo nel quale sostiamo e seguirlo con animo aperto disponibile ed accogliente. Buona giornata a tutti.